Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Oggi sono qui per presentare una nuova rubrica. In tantissimi mi avete chiesto di parlare di alcuni argomenti inerenti alle Reborn e io ho deciso di farlo in alcuni video cambio, quindi cambierò la Reborn e nel frattempo vi parlerò di quel determinato argomento, così appunto magari il video sarà un pochino più carino anche da guardare. E nulla, adesso prima di svelarvi l'argomento di questo primo video vi dico già che cambieremo il piccolo angus e tra poco vi farò vedere anche quello che gli farò indossare, ma soprattutto volevo chiedervi se vi piace questa tipologia di video, questa nuova rubrica, per favore lasciate un bel pollice in su a questo video per supportarlo e lasciatemi magari un commento qua sotto scrivendomi che argomento vorreste sentire nel prossimo video, quindi l'argomento più votato o insomma quello che trovo più curioso o a proposito del quale o più cose da dire verrà trattato nel prossimo video di questa rubrica, io spero tanto che questa idea vi piaccia e iniziamo subito! Al momento il piccolo angus sta indossando questo pigiamino di new chic che vi ho fatto vedere in qualche video al scorso, questi calzini carinissimi con tutti gli orsetti e questa bavaglia con scritto amore di zia che mi piace tantissimo e gli sta davvero molto bene e qui c'è il suo piccolo dudu a forma di ippopotamo, adesso vi mostro che cosa gli faremo indossare? Ho scelto per lui questo set completino degli ACDC con questo body fatto in questo modo con appunto scritto ACDC e il logo, questa bavaglia con le saette e i pantaloni coordinati, eccoli qui, sono davvero bellissimi e poi gli metterò questi calzini grigi normalissimi di chiabi, queste scarpette con la stella e per concludere questo succhietto. Oggi come primo argomento di questa rubrica ho deciso di parlarvi di un tema abbastanza simpatico, diciamo così, infatti vi racconterò di alcune situazioni che mi sono capitate quando a spasso alcuni sconosciuti hanno scambiato le mie bambole reborn per vere, questa è una cosa che mi chiedono in tantissimi, e una domanda, una delle domande che mi fanno più spesso è appunto, ma qualcuno ha mai scambiato le tue reborn per vere, ma come hanno reagito, che cosa hanno detto? Bene, in questo video vi parlerò un po' di questa cosa e spero che vi piaccia, se è così per favore lasciate un bel pollice in su a questo video per supportare il mio canale. Allora, la prima situazione che vi volevo raccontare è piuttosto curiosa, allora ero al supermercato con Anna Lu e c'era anche mia mamma che doveva fare la spesa e io avevo appena finito di ridipingere Anna Lu, che è la mia altra reborn per chi non lo sapesse, e praticamente quando io di solito finisco di dipingere una reborn può capitare che io la porti ad esempio a fare la spesa e la faccia vedere a persone, cioè faccio sì che l'occhio delle persone cada sulla reborn, in modo da distribuire alcuni biglietti da visita o in modo da far conoscere il mio canale a più persone, oppure vado semplicemente in giro per fare qualche video, ma quella volta era semplicemente per distribuire dei biglietti da visita, quindi praticamente io ero in cassa, mia mamma stava pagando la spesa e io ero in cassa con Anna Lu in braccio e fino a quel momento era andato praticamente tutto liscio, nel senso che quasi nessuno si era fermato a vedere Anna Lu perché pensavano che fosse vera e quindi non si erano fatti neanche particolari domande. Praticamente arrivati in cassa, la cassiera si sporge verso di me e dice ma com'è piccola, ma posso vederla? Allora io avevo aperto leggermente la giacchina di Anna Lu perché mi sembra che stasse indossando appunto una giacchina e gliel'avevo fatta vedere come per dire è finta e quindi mi aspettavo delle domande da parte sua, invece la cassiera pensava che fosse vera e praticamente ha guardato mia mamma e fa ma che carina, ma quant'è piccola, certo che poi guarda me e dice così giovane perché poi tra l'altro mi scambiano per una ragazza di più o meno 15-16 anni e quindi insomma si vede che la cassiera si è un po' stranita del fatto che avessi una bimba così piccola io in braccio e mia mamma ha detto eh no ma è finta e la cassiera non ha capito nel senso che è andata avanti a fare il suo discorso come se mia mamma non avesse detto niente al che io ho ripetuto e le faccio no ma guardi che è finta al che lei si è fermata come se avessi detto una cosa completamente assurda si esporta dalla cassa verso Anna Lu e mi ha detto ma com'è finta e io le ho detto eh sì sono delle bambole che realizzo io e appunto le dipingo assomigliano a bambini veri però in realtà non si tratta di bambini ma appunto di bambole e lei c'è rimasta ed è stato veramente comico perché io pensavo che comunque avesse capito e magari non so stesse fingendo semplicemente non sapesse come affrontare la situazione perché insomma mi rendo conto che arriva in cassa una ragazza con una bambola reborn in braccio cioè è un po' strana come cosa quindi io pensavo che lei stesse semplicemente fingendo perché non sapesse come affrontare la situazione insomma non so e invece lei proprio era convinta che si trattasse di un bambino ho dovuto ripeterglielo più volte per appunto spiegarle che era una reborn e un'altra volta mi è successa più o meno la stessa cosa con Angus cioè lui ero a filmare un video con Paola e non so se conoscete Paola se seguite il mio canale da un po' probabilmente si perché quando ci sono video da filmare all'aperto siamo sempre io e lei perché mi dà una mano appunto con le riprese e fatto sta che eravamo io e Paola in cassa e a un certo punto la cassiera mi dice io avevo Angus in braccio rivolto verso di me anche la cassiera mi dice ma ma vediamo un po' chi c'è lì nel senso che voleva vedere il tra virgolette bambino allora io ho rivolto Angus verso di lei e praticamente lei ha detto ma che bel bimbo ma quanto tempo poi ha fatto una pausa perché fissandolo si accorta che non sbatteva gli occhi avevo intuito che lei stesse capendo qualcosa c'era qualcosa che non le tornava al che ho detto guardi si tratta di una reborn di queste bambole che realizzo io stiamo filmando un video oggi abbiamo appena finito e niente ci servivano due cose per la cena quindi siamo passati direttamente a prenderle e lei era tutta stupita da questa cosa mi ha detto ma sono bellissime ma le fai tu insomma mi ha fatto un po' di domande a proposito e poi ha chiamato le altre cassiere praticamente c'è stato un momento in cui non so tre o quattro casse non funzionavano perché le cassiere erano tutte a vedere Angus e niente è stato molto carino perché poi mi hanno fatto un po' i complimenti mi hanno chiesto come mai avessi questo hobby quale fosse tra virgolette lo scopo io gli ho detto che appunto mi piaceva realizzarle poi facevo anche questi video e nulla è stato carino perché poi alla fine si sono dimostrate essere molto molto comprensive e anche aperte nei confronti di questo hobby che comunque non è da tutti un'altra esperienza molto molto positiva che mi è capitata è stata allo zoo quando ho portato sempre Angus a fare il video dello zoo che è su questo canale se non l'avete ancora visto ve lo siete perso ve lo lascio qui nelle schede se mi ricordo e nulla praticamente siamo arrivate io e Paola sempre alla biglietteria dello zoo per fare i biglietti per me e lei ovviamente e io avevo il passeggino con Angus e la tipa della biglietteria si esporta perché voleva vederlo allora io l'ho inclinato verso di lei e anche questa volta l'aveva completamente scambiato per vero allora dopo io ho dovuto spiegare faccio no ma guardi che non è un bambino è una bambola siamo venuti qui perché è un bel posto anche per filmare un video quindi era un'idea carina da portare sul mio canale ho lasciato un biglietto da visita e mi hanno detto ah sì sì andremo sicuramente a vedere il tuo canale cose del genere insomma anche lì in quella situazione si sono mostrate molto molto comprensive e mi ha fatto molto piacere invece poi ci sono state alcune volte in cui non ho detto che si trattava di bambole semplicemente per il fatto che la situazione magari non era delle migliori io ero di fretta o cose del genere per esempio una volta ero in un centro commerciale in uno di quei posti insomma che fanno pizza da sporto e una mia amica stava ordinando la pizza e io avevo una reborn che non mi ricordo chi fosse probabilmente kurt e praticamente avevo appena finito di filmare un video quindi prima di andare a casa ci siamo fermati a mangiare e mentre la mia amica ordinava la pizza io ero lì ferma con il passeggino fuori e una ragazza mi si è avvicinata e mi ha chiesto quanti mesi avesse il bambino e io semplicemente ho risposto due settimane e lei mi ha detto complimenti è bellissimo così perché non era la situazione ideale per dare spiegazione a proposito non avevo tempo era abbastanza di fretta e quindi mi sono limitata a rispondere in questo modo e poi l'ultima situazione che volevo raccontarvi prima di chiudere il video perché come vedete il piccolo angus è vestito molto rock oggi è quando un po' di giorni fa al negozio dell'usato dove sto lavorando in questo periodo poi vi spiegherò è un progetto realizzato per l'università praticamente avevo con me una reborn perché faccio dei servizi fotografici facendo stare dei vestitini comunque vi lascio qua sotto nell'info box il link del sito del negozio perché ci sono delle cose molto molto carine poi potete portare cose che non usate più e comprarne delle altre e quindi appunto è molto molto carino io ho preso numerose cose per le mie reborn a dei prezzi davvero ottimi nulla praticamente era in questo posto stavo scegliendo dei vestitini per Giulia per farle delle foto e a un certo punto una signora che era lì con dei bimbi si esporta verso di me che aveva appunto Giulia nell'ovetto e ha detto ai suoi bimbi guardate guardate chi c'è qui c'è una piccolina poi l'ha vista e io ovviamente le ho detto guardi si tratta di una bambola reborn e lei ha risposto oddio sembra fin troppo vera non penso che la prenderei mai è troppo uguale a un bambino e niente quindi questa è stata una situazione un po' diversa perché comunque alcune persone apprezzano queste bambole altre invece no quindi ognuno ha un suo modo di reagire e insomma è carino vedere anche le diverse reazioni della gente siamo giunti alla fine di questo primo video della nuova rubrica sul mio canale io spero tanto che vi sia piaciuto che l'argomento sia stato di vostro gradimento e che questo video vi abbia intrattenuto o tenuto compagnia il piccolo Angus è vestito molto rock oggi ecco qui questo è il suo outfit secondo me gli sta davvero bene fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se questo video vi è piaciuto per favore lasciate un bel pollice in su condividetelo su tutti i vostri social con i vostri amici lasciate un commento qua sotto suggerendo nuovi argomenti per i prossimi video iscrivetevi al mio canale cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video ciao da me e dal piccolo Angus iscriviti al nostro canale